buongiorno a tutti i fratelli e sorelle bianconere ben ritrovati qui sul mio canale mio nuovo video innanzitutto vive vi invito sempre a mettere like ad iscrivervi al canale fate fate un piacere a me è comunque comunque io impiego il mio tempo cerco di portarvi contenuti sicuramente farebbe piacere e niente torniamo a noi ragazzi io farò un po di premesse mattina sarà un video abbastanza impegnativo quindi vi invito di mettermi i comedi e di ascoltare tranquillamente allora faccio faccio un passo indietro ieri ho detto che secondo me il quello era fallo mi sono sbagliato mi sono sbagliato perché a me piace andarmi a rivedere le cose non informarmi e quello non è mai fatto per quanto mi riguarda quello non è mai fatto perché mili che prende completamente la palla è vero che dopo va a sbattere con la gamba però lui risposta nettamente la palla però in quel caso in quel caso il bar non può intervenire non può intervenire perché l'arbitro era lì l'arbitro si è visto anche c'è l'arbitro ha detto palla palla continuate aveva preso una decisione e in questo caso il var non può intervenire il var siccome hanno detto il var può intervenire in determinate situazioni c'è un protocollo il var non può intervenire per le spinte per anche un fallo cioè tu non puoi cambiare una decisione del genere anche perché l'arbitro ormai va deciso cioè era lì l'arbitro quindi cioè poi si può discutere cioè per me per me non è fallo ho sentito che alcuni hanno detto che fallo per carità ognuno esprime la propria opinione però come hanno detto mi pare anche a media set il var lì non può intervenire cioè non puoi non puoi andare a cambiare una dinamica che l'arbitro ormai va preso la sua decisione il var può intervenire in caso di di fuorigioco di imparare fasi in mano per puntaggio di rigore per altre situazioni cioè adesso non mette i vari protocolli del va però in questa situazione quindi cioè l'arbitro ha completamente ma non è solo su questo episodio e che sia chiaro e che sia chiaro io non mi sto attaccando all'arbitro è l'ho detto ieri nel video è non dobbiamo non dobbiamo tirare fuori l'alibi dell'arbitro perché tu ieri hai perso meritatamente per le cazzate che ha fatto allegri e dopo verremo ai miei tifosi è perché ne ho da dire tante dopo ieri però sapete benissimo che sono una persona che piace a me non piace parlare di queste cose di di arbitri di episodi però voi sapete benissimo che la cosa che a me dà fastidio e la disparità di trattamento cioè per come per come ci stanno trattando no cioè una penalizzazione a campionato in corso non ha mai successo poi la squalifica murino che li hanno sospeso guarda caso per per giocare roma juventus nella la 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 squalifica a lukaku che non era mai successo mai successo con la squalifica venisse tolta per solito una squalifica e per doppia munizione espressione diretta ma non ma non esiste proprio e quindi è ovvio che io penso male però ieri sicuramente non abbiamo perso per colpa dell'arbitro e persone adesso vogliono farci pagare no è proprio la terna vitale che è scarsa perché è stata proprio la gestione della partita anche la gestione dei cartellini cioè hanno munito agli cottelli che per un fallo cioè anche rabbio cioè quei quei quelli non sono non sono mai da ammunizione mai mai sugati sugati si può discutere perché per me quella per me da come non è condotta anti anti condotta violenta però in europa in europa una cosa del gente affischiano giustamente giustamente su me e quindi su me l'arbitro c'è un po graziato ieri è perché se ti danno l'espressione di gatti non so poi vero non hai non è la certezza magari la juve la juve fauna ha un altro tipo di atteggiamento perché quando se in dieci chiaramente magari è nato di pretecitamento però secondo me poteva esserci come non poteva esserci c'è il giallo su me sarebbe stato più giusto però in europa un altro metodo di giudizio e gatti ha rischiato ha rischiato tanto è perché è vero è vero che guarda sceglie fa la sceneggiata no però lì lì è un intervento abbastanza rischioso e poi e poi per il resto niente però c'è più che altro e tutta la gestione in sé della tale abitare con mi è piaciuta cioè io sto criticando la disparità di trattamento nei nostri confronti cioè con noi con noi adottano un metodo di giudizio foglia e con gli altri un altro ecco è questo che non sopporto io e questo che io vado sempre però ieri e anche altre volte non ho mai detto abbiamo perso colpa dell'arbitro e ma gli altri rubano questo non l'ho mai detto anche perché a me piace parlare della partita non di calcio di di analizzare perché nessuno nessuno ha detto ieri che l'evento fatto schifo è è stata l'ennesima partita indecente che abbiamo fatto perché a parte il gol annullato tutto quello che volete no ma non mi sembra che su un tempo abbiamo abbiamo brillato anzi anzi è stato napoli a sfumare più e più volte il gol e ieri sono venuti a torino sapendo che per loro la partita non è chissà che importanza cioè su me era più importante per noi perché adesso adesso il quarto posto è il quarto posto non dico non dico che c'è è un po rischio è un po rischio su me perché se oggi la roma vince ti aggancia c'è il miglior meno tre qua c'è qualcosa stiamo parlando della terza sconfitta consecutiva è terza sconfitta consecutiva c'è cosa mi pare che la juan non perdesse tre partiti di fila in campionato parlo dalla stagione 2010 2011 correggetemi quindi e poi un'altra un altro premesso no perché io io ammetto quando sbaglio sul gol che abbiamo preso secondo me e dopo lo scritto anche nei voti di ieri secondo me ha più responsabilità quadrato fagioli si doveva chiudere perché adesso fagioli è diventato il capio spiatorio ha fatto un errore sul suolo ed è stato massacrato soprattutto l'anatore che l'ha tolto dopo 30 secondi e non esiste e non esiste anch'io a calcio quante ma chiunque chiunque faceva un errore ma così così vai a destabilizzare un giocatore così poi lo uccidi moralmente ieri è vero doveva esserci lì fagioli a chiudere perché non è andato a contrastare ma di chi era la zona di competenza non di fagioli di quadrato e quadrato dove era era ancora a terra che che piangeva quindi dopo mi sono rivisto un po l'azione del gol io comunque perché a me piace andare un po a sbiscicare no ad analizzare e lì insomma è più responsabile quadrato perché quadrato dove andare a chiudere quadrato dove a tornare indietro invece di stare a terra a mezz'ora a piangere veniamo ai nostri io ho letto ho sentito tante tante cazzate ho sentito e ma l'arbitro e abbiamo perso colpa dell'arbitro e ma quello ragazzi smettiamola smettiamo di fare piangina smettiamola di fare il piangina siamo critici ogni tanto tu non hai perso per colpa dell'arbitro ieri ma lasciate stare l'episodio il fallo non c'è ok siamo tutti d'accordo sono il primo che batte sul discorso della disparità di trattamento ma non possiamo ogni volta ogni partita perdiamo trovare scuse scuse questo allenatore da due anni non ha costruito niente non è non è migliorato in niente non riusciamo a fare tre passaggi di fila non imbastiamo un'azione ci sarà un cazzo di motivo o è sempre colpa e ma dell'arbitro e della penalizzazione basta scuse questo in due anni quest'anno si è uscito ma la mente gironi cemps con 5 sconfitte su 65 sconfitte su sei il punto più basso della nostra storia e questo è l'ottava sconfitte in campionato ma di cosa stiamo parlando vedo ancora gente giustificare allegri è ma pensavo nella coppa italia ma cosa me ne frega a me della coppa italia tu devi devi pensare alla partita che ha in quel momento non la coppa italia perché ieri la formazione l'ha cannato completamente allegri è la carriera cannato completamente quindi ragazzi mi rivolgo ai miei tifosi perché io per fortuna per fortuna non sono come voi che faccio che faccio il piangino perché io io l'ho detto nel video è c'era partita l'abbiamo persa noi cioè prendono un gol così un gol gol da polli perché quadrato va a tornare indietro dovevamo abbiamo fatto male la fase e la transizione negativa abbiamo fatto malissimo però sentire che abbiamo perso colpa dell'arbitro cioè non facciamo non facciamo come i napoletani interisti che piangono quando 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 parlano una partita siamo autocritici diciamo che abbiamo perso per colpa di un attore che 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 due anni da quando è tornato che che non ci sta cambiato un cazzo perché ieri ha fatto l'ennesima l'ennesima stronzata perché è chiaro che tu prendi gol e stando tutto il tempo difesa no tutto tutto a tempo arroccato prima o poi gol te lo fanno è normale ragazzi cioè anche ieri in fase di non possesso linea linea 5 linea 5 cioè per voi è normale questa cosa quindi cioè l'episodio ci sta analizzare l'episodio infatti io ho analizzato solo l'episodio che per me quello non è mai fallo ma mi sono fermato lì non ho detto il napoli ha rubato partita falsata ho sentito queste cose no ragazzi noi abbiamo perso per questo perso per colpa nostra per una nostra disattenzione potuto quadrato e soprattutto perché allegri allegri ha impostato mai la partita perché non dico non dico che devi attaccare 90 minuti di un napoli però tu non solo tempo ne hai fatto un tiro in porta non abbiamo fatto un tiro in porta quindi io sono fiero di essere roba di fare autocritica io autocritica preferenza vostra differenza di in molti juventini che stanno facendo il piangina o purtroppo può pur di difendere allegri pur di difendere allegri continuiamo a trovare scusa basta scusa per questo natore basta quindi volevo volevo fare questo video stamattina precisa un po di cose fare un po di premesse fare anche un passo indietro perché mi sono reso conto ovviamente che andando a rivedermi l'episodio e goal che abbiamo preso volevo insomma fare delle precisioni insomma ragazzi fatemi sapere la vostra cosa ne pensate ma ragazzi ragazzi non facciamo il piangino non facciamo il piangino non attacchiamoci all'arbitro perché tu non hai perso preoccupare l'arbitro tu hai perso per per le per le tue cazzate che hai fatto in fase fase di ripiegamento ma soprattutto allegri per come impostato la partita sei sei tu che hai perso la partita allegri non l'arbitro non c'entra niente l'arbitro buona giornata a tutti sempre 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 fino alla fine forse io nonostante sì sono critico no io ce l'ho ce l'ho con allegri non io io veramente non vedo l'ora che se ne vada a giugno però io non il bene della juventus voglio il bene per questo per questo dico queste cose per questo a me piace analizzare a 360 gradi non non fermarmi se ho parlato dell'episodio vitale ma finita lì non ho detto il partito è stato rubata 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 un cosa il napoli ha meritato di vincere punto e stop non e non tiriamo fuori discorsi provinciali da piangina buona giornata a tutti e sempre fino alla fine forse juventus è mercoledì mercoledì vedremo questo cosa succederà vedremo cosa e voi sapete benissimo che ormai della cupa italia frega frega il cazzo anzi vi dirò a questo punto meglio uscire perché come come hanno detto ieri è ma la partita importante è mercoledì e allora allora cosa andiamo a fare in campo cioè se se vuoi in partita quella dopo no tu devi giocare per provare a vincere partita per parte dopo quella dopo ci penserai dopo però smettiamola smettiamola di trovare fuori alibi perché le scuse stanno sempre buona giornata a tutti